Questo è il mese dedicato al Santo Rosario e alle missioni. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera a Maria Benedicimi, o figlia dell'Eterno Padre. In nomine Patris, et Fili, et Spiritus Santi. Amen. E non permettere che io offenda mai il mio Dio con i pensieri. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Benedicimi, o Madre del Divin Figlio. In nomine Patris, et Fili, et Spiritus Santi. Amen. E non permettere che io offenda mai il mio Dio con le parole. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Benedicimi, o sposa dello Spirito Santo. In nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti. Amen. E non permettere che io offenda mai il mio Dio con opere e omissioni. Anzi, fa che io l'ami con tutto il mio cuore, e lo faccia anche amare dagli altri. Così sia, o dolce, o pietosa, o amabile Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. A te, o Vergine Madre, che non fosti mai macchiata da alcun neo di colpa, né attuale, né originale. Raccomando e affido la purezza del mio cuore. Pratichiamo questo mese la santa purezza nel corpo e nell'anima. 26 ottobre La Santa Comunione Comunione Santa Basta una sola comunione per farci santi, dice Santa Teresa. E basta che l'anima si accosti con fede, pietà e amore. Quando il cuore si apre ad accogliere Gesù come rugiada, come manna, come fuoco, come tutto, come Dio, questo è sufficiente a farci santi. Chi mai può immaginare il lavoro della grazia in quel cuore? Gesù ne prende possesso e vive in Lui, lo monda, lo abbellisce, lo fortifica e combatte per Lui. E se non trova ostacolo alcuno, lo fa santo. Ne facesti tu almeno una, così, di comunione. E dire che potresti farle tutte. Comunione tiepida. Osi tu appressare le labbra a Gesù con il cuore così freddo, così dissipato, così privo di mortificazione. Dove è la tua preparazione? Dove sono i tuoi affetti, i tuoi propositi, il tuo amore? Cerchi almeno di rompere il ghiaccio che ti sta dentro. Se sei arido o distrato, ti disponi almeno come puoi. E forse per abitudine o per desiderio di migliorare che frequenti la santa comunione. Lo sai che il tiepido è di nausea a Dio. Comunione sacrilega. L'infelice Giuda come pagò il suo sacrilegio? Da apostolo divenne un reprobo. Non l'abbiamo noi forse imitato, ponendo Gesù tutto puro, santo, immacolato, presso l'impuro demonio che reneava nel nostro cuore con il peccato mortale. Quante volte bastò un sacrilegio a dare principio a una catena di peccati che trascinarono nell'inferno? Pentitene, se ne hai commessi, e proponi di morire prima di commettere un sacrilegio. Pratica Procura di fare una comunione santa per riparare le comunioni tiepide e quelle sacrileghe. Per riparare le comunioni tiepide